partiti fino alla fine del primo tempo forza Juventus in gol Rugani appoggia per il lancione di De Ligt fa un laterale per noi battuto da Danilo Higuain Di Bala Di Bala sul lato stretto poi per Higuain che si gira col sinistro il tiro è smorzato centrale lento nessun pericolo corso dal brasiliano Nicolas Bentancur Higuain Di Bala Higuain Di Bala Higuain tutto provato in allenamento attenzione Di Bala Higuain davanti alla porta GOL la Juve in gol con GOL Zalo Higuain 15.30 la Juve va a sbloccare la partita andiamo a rivedere quanto è successo la serie di scambi ravvicinati tra i due argentini Di Bala e Higuain qui se la mette giù nettamente con il petto Gonzalo l'Udinese vorrebbe un fallo di mano che evidentemente non c'è ultimo assist di Paolino petto e destro secco di Gonzalo palla in rete Juventus 1 Udinese 0 Buono il campo trovato da Bernardeschi che avanza 3 contro 3 attenzione accelera la Juve adesso c'è Guain dall'altra parte Douglas Costa recupera adesso l'Udinese Bernardeschi per Gonzalo Gonzalo per Bernardeschi esce il portiere Bernardeschi va giù nel contrasto calcio di rigore Juve l'uscita fallosa di Nicola Seidani di Federico Bernardeschi parte il mancino di Paolino la Juve in gol con Paolo Di Bala un raddoppio che dà gioia a tutto lo stadium minuto numero 26 Juventus 2 Udinese 0 gli schemi offensivi funzionano molto ma molto bene tanto è vero che Bernardeschi Douglas Costa Di Bala i Guain scambiano con rapidità il pallone vanno in verticale e trovano metri su metri pallone tra i piedi dell'Udinese che sbaglia attenzione Douglas Costa limite dell'area si sposta Iguain Douglas vede bene Di Bala dall'altra parte Paolino alza la testa mette il pallone giù lo rimette alto per Iguain petto di Gonzalo destro con l'esterno non trova la porta Iguain peccato possesso palla con tutta l'ampiezza del campo per la Juve attenzione che poi accelera con Alexandro che scarica per Douglas Costa può puntare Teraves Douglas destro sinistro gioco di gambe con l'elastico palla ribattuta ancora Douglas limite dell'area carica la conclusione con il destro palo pieno di Rodrigo Bentancur non c'è più tempo arriva uno e arriva due il duplice fisco del signor Aureliano manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi fischia l'arbitro la finta di Di Bala allarga dall'altra parte per Douglas Costa Douglas punta l'uomo Douglas poi al limite per Di Bala a velo il mancino di Bernardeschi De Ligt avanti a portiere tiro parata con Zalo gol 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 Zalo in questo momento c'è l'assistenza del VAR sulla posizione di De Ligt che era andato alla conclusione vediamo l'arbitro VAR attenzione intervento che annulla la seconda marcatura di Gonzalo vuole il centro testa di Rugani fa proseguire Bernardeschi per Higuain attenzione parte veloce Douglas Costa Gonzalo si avvicina all'area di rigore Gonzalo Gonzalo con l'esterno per Di Bala Di Lapp si apporta sul mancino le tira gira gol in gol in gol di Paolino un sinistro sopraffino ecco che rivediamo al volo Bernardeschi Higuain sale Douglas Costa porta via crea spazio dall'altra parte c'è Di Bala lo serve Higuain e Paolino va ad incrociare sul palo più lungo con leggera deviazione di Nikolas che non basta a salvare il gol De Ligt Rugani il rabbiò con Higuain in aria attenzione il cross di Paolino Nwiting di testa allontanare al lavoro ci prova Alessandro lascia lì il portiere c'è De Ligt si sposta Alessandro la porta è vuota attenzione forse un braccio si calcio di rigore tocco con il braccio è giallo per Nwiting fischia l'abito parte Douglas Costa flash Costa 4-0 Juve scambio che riesce ancora Strighelans attenzione Baracca limite dall'area di rigore entra dentro l'Udinese De Ligt in marcatura la conclusione su Buffon Di bala di tacco poi Higuain di bala attenzione alla velocità di Danilo dentro per Higuain area piccola Gonzalo grandissima parata di Nicolas Juventus vicino al quinto gol finge di caricare il sinistro limite dell'area poi concede il cross attenzione per il colpo di testa centrale di Lasagna in alto il cross di Bernardeschi per il palo colpito di testa ancora un montante preso dai nostri Alexandro lancio immediato per Quadrado attenzione posizione regolare entra in area Quadrado in sinistro col portiere che guarda sfilare a lato il pallone peccato cerca una verticale su Barak che tira all'improvviso il pallone scivola sull'esterno della rete c'è la deviazione arriva la punizione con il pallone che si alza non c'è più tempo arriva uno arriva due e arriva tre parola scivola sull'esterno scivola 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 Grazie a tutti.